Bene, allora, io come avete visto ho una logorrea tale che posso parlare anche altre 72 ore consecutive, salvo magari una flebbo attaccata con delle orecchiette endovena, però dato che nella pausa caffè qualcuno mi ha fatto delle domande su dei temi specifici e ho detto, ah, che era la pausa caffè, quindi non ero autorizzato a rispondere, ma appunto invece erano argomenti che possono interessare tutti, quindi ho suggerito appunto a quelli che mi hanno fatto le domande di rifarmele qui adesso, così possono essere argomenti da affrontare insieme. Quindi chi voleva partire, ricordatevi sempre il microfono, aspettiamo gli ultimi caffèinici. Dunque, come le stavo accennando, volevo sapere come funzionano i diritti d'autore su questi testi riscoperti, già pubblicati e anche a proposito delle traduzioni. Grazie. Bene, allora, l'argomento è ampio, però cerco di dirlo per sommi capi. Innanzitutto partiamo da due o tre regolette base. I diritti su un testo sono di proprietà dell'autore che li ha scritti. Questo è riconosciuto dalle le leggi internazionali sul diritto d'autore, esiste anche una legge italiana, che è una legge del 1933, mi sembra, con numerose varie modificazioni, però di fatto il contratto è ciò attraverso cui, la forma attraverso cui un editore e un autore si mettono d'accordo perché l'autore, che è il proprietario del diritto sul proprio testo, lo cede all'editore perché possa pubblicare il libro. Peraltro il contratto non è obbligatorio nella forma scritta, cioè la legge prevede anche che autore ed editore si possano mettere d'accordo, come spesso succede, bevendo alcol, mangiando, chiacchierando, eccetera, eccetera. Quindi non è necessario che ci sia un contratto, ovviamente il contratto aiuta perché in caso di discordie, litigi o dubbi ci sia un pezzo di carta scritto. Però appunto la prima cosa curiosa da sapere è che la legge prevede che ci si possa accordare anche senza una forma scritta. Detto questo, quando il contratto si fa è bene anche tenere presente alcune piccole variabili, alcune delle quali hanno a che fare con il passare del tempo. La prima cosa da sapere è che esiste un limite massimo di durata di un contratto, cioè non si può firmare un contratto fra un autore ed editore che abbia una durata superiore ai 20 anni. Quando il contratto non esiste o autore ed editore hanno deciso di fare il contratto ma appunto erano troppo ubriachi e si sono dimenticati di scrivere la durata del contratto, si presume automaticamente che la durata sia la massima, cioè di 20 anni. Cioè se non c'è scritto niente, se autore ed editore non si sono accordati, vale la regola dei 20 anni, altrimenti per qualunque cosa al di sotto dei 20 anni ci si mette d'accordo per iscritto tra autore ed editore. Allo stesso modo, a proposito del passare del tempo, l'editore si deve impegnare nel contratto a pubblicare il libro entro una certa data, perché? Proprio perché magari il contratto può avere una durata di molti anni è interesse dell'autore che questo libro non venga pubblicato il ventesimo anno e quindi normalmente un'altra cosa che si scrive nel contratto è la data entro cui l'editore si impegna nei confronti dell'autore che gli ha ceduto i diritti su quel libro a pubblicarlo. Altra regola importante sul diritto d'autore che prescinde dal contratto ma che sempre ha a che fare con il passare del tempo, questo probabilmente lo sapete, è che passati 70 anni dalla morte dell'autore il libro, il suo testo diventa, la sua opera in generale diventa, come si dice in gergo tecnico, di dominio pubblico, ossia chiunque può pubblicare quel libro, quell'opera. Ed è il motivo per cui, come sapete, di Carver esiste una sola edizione, prima ce l'aveva un editore, poi ce l'aveva un altro editore, perché non sono passati 70 anni dalla morte dell'autore, e di Dante Alighieri esistono infinite edizioni. O, per dire dei casi più recenti, è un caso anche in cui è stato coinvolto Minimufax, per esempio, qualche anno fa sono passati 70 anni dalla morte di Francis Scott Fitzgerald, e quindi sicuramente avrete visto in libreria una serie di edizioni diverse. Tutte queste cose che noi abbiamo detto valgono esattamente, specularmente, anche per la traduzione. Cioè, il traduttore fa un'opera che è a sua volta un'opera letteraria, cioè crea qualcosa di diverso da quello che l'opera originaria è in un'altra lingua. Quindi, anche quella è di fatto considerata a tutti gli effetti un'opera, come dice la terminologia della legge, un'opera dell'ingegno, quindi diciamo un'opera creativa, letteraria, e quindi ci saranno le stesse regole. Il traduttore si dovrà mettere d'accordo con l'editore, ci sarà presumibilmente, anche in questo caso non è obbligatorio, ma si tende a farlo, un contratto. Questo contratto è prevista a una durata, anche qui di massimo 20 anni, della cessione di questo diritto. E, tanto nell'un caso quanto nell'altro, cioè dell'autore e del traduttore, è previsto generalmente un compenso, che può essere forfettario, che può essere nel caso delle traduzioni a cartella, cioè a pagina, nel caso del libro è quasi sempre una percentuale sul prezzo di copertina del libro venduto, su questa percentuale si prevede un anticipo, anche qui per semplificare ipotizziamo che il libro costi 10 euro e che la percentuale sia del 10%, per fare dei numeri facili, significa che l'autore prenderà dall'editore un euro per ogni copia venduta. Se al momento del contratto l'editore dà un anticipo all'autore, questo significa appunto che viene pagato in forma anticipata, quindi prima che l'editore maturerà a quei tanti un euro per ogni copia venduta, per esempio mille euro di anticipo, significa che le prime mille copie vendute sono già state pagate. L'editore è tenuto, sarà scritto anche questo nel contratto, a mandare ogni anno un rendiconto delle vendite all'autore, nei contratti generalmente si prevede anche una forma di controllo che l'autore possa esercitare su questi dati perché magari l'editore se li può inventare. Quindi ogni anno l'editore dirà quest'anno ho venduto 500 copie, ti avevo già pagato mille quindi siamo ancora a credito, l'anno prossimo ne vendo altre 300, siamo a 800, quando superiamo le mille, dalla mille unesima copia in poi l'editore sarà tenuto a dare un altro euro per ogni copia venduta oltre le prime mille che sono state pagate, questo proprio per semplificare. Che cosa succede quindi? La domanda era, diciamo questo era per chiarire alcuni aspetti, alcune regole base, quindi che cosa succede nel caso di autori che sono già stati pubblicati da altri editori, anche nel caso di autori che sono morti, ma non da oltre 70 anni, quindi diciamo dal tutto il periodo in cui l'autore è vivo e fino a 69 anni, 11 mesi e 364 giorni, dalla sua morte, in questo caso i diritti saranno esercitati dagli eredi, figli, vedovi, nipoti e quant'altro, a volte fondazioni. Cosa succede? Appunto prendiamo uno di questi casi che abbiamo fatto, Raymond Carver, Carver è morto nell'84 se non erro, quindi fino al 2054 le sue opere saranno coperte dal diritto d'autore, cioè non si possono pubblicare liberamente, nel 2054 ci saranno tante altre edizioni. Se qualcuno avrà voglia di continuare a leggere e pubblicare Carver. Quindi come vi ho detto prima, quando Minimum Fax ha comprato i diritti lo ha potuto fare in virtù del fatto che un precedente contratto che era stato firmato per Cattedrale con Mondadori, per altri tre titoli da Garzanti, erano scaduti. Quindi c'era un contratto, era passato del tempo. Cosa succede? Che allo scadere del contratto l'editore può decidere se rinnovare il contratto o se non rinnovarlo. Se lo rinnoverà si metterà di nuovo d'accordo con l'autore, in questo caso l'autore era morto, quindi i suoi eredi, per prolungare il periodo di tempo. Firmiamo un contratto per altri dieci anni a fronte di un ulteriore anticipo sulle future copie vendute da qui in poi. In quel caso, come vi dicevo prima, evidentemente a Garzanti e a Mondadori non interessava continuare a pubblicare i libri di Carver e quindi c'è stata la possibilità per altri editori di comprare i diritti su quei libri. Minimum Fax si è fatto avanti con una proposta, all'epoca c'erano anche altri editori interessati, curiosamente uno di questi era in Audi, invece appunto l'agente che curava i diritti decise di darlo a Minimum Fax e noi firmammo dei contratti con una certa durata, quindi scaduti ulteriormente questo nuovo periodo di tempo coperto dal contratto tra gli eredi di Carver e Minimum Fax, si doveva decidere cosa fare. Minimum Fax vuole rinnovare? Certo, noi volevamo rinnovare perché come vi avevo detto Carver per noi era stato un best seller, il problema è che si è fatto di nuovo avanti in Audi che la volta precedente, dieci anni prima, aveva perso la competizione con noi e in questo caso, diversamente da allora, è stato preferito in Audi che avrà fatto un ulteriore contratto per un altro periodo di tempo e quando scadrà si vedrà di nuovo che succede se in Audi vorrà continuare e rinnoverà il contratto, se ci saranno altri editori che si faranno avanti, magari verrà preferito qualcun altro in Audi o presumibilmente no. La stessa identica cosa succede per le traduzioni. Come vi ho detto, anche la traduzione è un'opera dell'ingegno, viene ceduta dal traduttore all'editore attraverso un contratto e anche quel contratto avrà una scadenza. Nel momento in cui scadrà il contratto della traduzione, il nuovo editore potrà decidere se, dopo aver comprato i diritti sull'opera in questione, vorrà anche comprare i diritti su quella traduzione. Nel caso, per esempio, di Carver, noi abbiamo deciso di ritradurre, dato che appunto i libri erano stati pubblicati in periodi diversi da editori diversi, i vari libri di Carver erano tradotti ognuno da un traduttore diverso. A noi piaceva l'idea, essendo un unico autore, di dargli un unico traduttore. Quindi in quel caso non abbiamo comprato i diritti delle traduzioni già esistenti, dai traduttori che avevano tradotto per gli altri editori, ma abbiamo affidato quel libro a un altro traduttore. Ovviamente possono esistere più traduzioni dello stesso libro, cosa che per esempio stiamo facendo anche con Sur. A maggior ragione abbiamo fatto più volte il Minimum Facts nella collana che si chiama Minimum Classics, cioè la riproposta di autori già esistenti, anche già pubblicati. Allora in questo caso, ecco, ho qui aperto davanti a me per caso la pagina di Sur dove ci sono due titoli di onetti e abbiamo fatto due cose diverse. In un caso Il Cantiere era un libro che era stato originariamente pubblicato da Einaudi. Noi abbiamo deciso di, una volta scaduto il contratto, no scusate, da Feltrinelli, una volta scaduto il contratto di Feltrinelli, tra l'altro c'è stato tutto un periodo in cui il libro non è stato pubblicato, quindi significa che scaduto il contratto non è arrivato subito un altro editore e lo ha ripubblicato. Sono passati molti anni, sono passati circa 20 anni in cui nessuno ha più pubblicato quel libro. Quindi è arrivato a Sur e ha deciso di comprare i diritti. Comprati i diritti, in questo caso, sul libro dagli eredi di Onetti, ma ha deciso di affidare una traduzione nuova. Era un progetto nuovo, anche in questo caso volevamo affidare alcuni titoli di quest'autore a una traduttrice in particolare molto brava che si chiama Illide Carmignani, che è una delle più importanti traduttrici di letteratura di lingua spagnola in Italia, e quindi abbiamo fatto un contratto ex novo per una nuova traduzione di quel libro di Onetti. Nella stessa pagina del catalogo c'è invece il caso di Iadi, altro romanzo di Onetti, la cui traduzione... il libro era stato pubblicato, credo, nei primi anni 80 da editori riuniti. Anche in questo caso erano passati molti anni in cui il libro non era stato più pubblicato, quindi non esisteva più nessun contratto tra editori riuniti e Onetti. Esisteva la traduzione di Dario Puccini, che è un ispanista molto importante, anche lui traduttore, molto bravo. In questo caso la traduzione ci sembrava molto buona e quindi abbiamo deciso di conservarla. Che cosa abbiamo fatto? In questo caso siamo andati a cercare notizie perché nel frattempo perfino i traduttori muoiono, spesso distenti. Quindi avevamo a che fare con un autore morto, Juan Carlos Sonetti, ma non da più di 70 anni, quindi sapevamo di dover trovare un'erede, in questo caso rappresentato da una importante agenzia letteraria di Barcellona. Del traduttore invece è stato difficile trovare traccia. Alla fine telefona alle case editrici che l'avevano pubblicato, nel frattempo, perché anche gli editori muoiono distenti, editori riuniti era fallita, quindi non sapevamo dove trovare anche le notizie sul traduttore. Insomma, alla fine siamo riusciti a rintracciare la vedova del traduttore e che abbiamo scoperto essere l'erede testamentaria di Dario Puccini e quindi abbiamo firmato un contratto con lei. Quindi una cosa piuttosto avventurosa, però questi sono i casi che possono succedere. Quello che vi dicevo prima, il caso appunto di un autore, in particolare un autore importante come Fitzgerald, che è stato per anni, alcuni suoi libri pubblicati da Mondadori e altri pubblicati da Inaudi, però diciamo principalmente pubblicato da sempre negli Oscar Mondadori, tranne mi sembra la notte che era uscito da Inaudi, in quel caso passati 70 anni dalla morte dell'autore nel 2010, perché era morto nel 40, se non ero 40 o 41, chiaramente tutti gli editori erano lì pronti ai nastri di partenza per ripubblicarlo. Che cosa succede in quel caso? Che l'autore era morto da più di 70 anni, ma non il suo traduttore, in questo caso quasi tutti i suoi libri erano stati tradotti da Fernanda Pivano, morta anch'essa ma di recente e quindi in realtà si è morta credo 5-6 anni fa, quindi ci vorranno ancora 60 anni prima che chiunque possa, cioè che diventino di pubblico dominio anche le sue traduzioni. Quindi in quel caso chiunque chiunque poteva pubblicare Fitzgerald, ma le traduzioni di Fernanda Pivano erano sotto contratto per Mondadori o per Inaudi. Quindi tutti quegli editori che volevano pubblicare Fitzgerald che dovevano fare? O avrebbero dovuto comprare la traduzione con una licenza da Mondadori, però nessuno l'ha fatto perché Mondadori ha continuato a pubblicare i libri di Fitzgerald, oppure assegnare una nuova traduzione e quindi ogni editore, insomma sono uscite almeno credo 6-7 edizioni contemporanee dei vari libri e quindi ogni editore ha scelto la sua strada. In quel caso Minimum Fax, insomma ognuno poi doveva anche differenziarsi in qualche modo appunto, cioè chi lo ha fatto come dicevamo prima, come Newton Compton, differenziandosi mettendo i libri in vendita a pochi euro, quindi chiaramente essendo più appetibile, chi lo ha fatto come Mondadori e Inaudi che ha continuato a riproporlo negli Oscar o nei tascabili di case editrici affermate e quindi chiaramente più facilmente reperibili e anche diciamo tradizionalmente importanti. Nel nostro caso per esempio abbiamo pensato di fare un'operazione, essendo Fitzgerald un autore anche molto amato dagli scrittori, abbiamo deciso di fare un progetto di 5 libri affidandone la traduzione ciascuna a uno scrittore, quindi abbiamo scelto tra gli scrittori italiani quelli che sapevamo sia essere dei fan di Fitzgerald sia essere bravi con la traduzione. Uno di questi è venuto qui qualche giorno fa, non so se vi ha parlato della sua traduzione di Fitzgerald, è stato Tommaso Pincio. Quindi con questo spero di aver risposto più o meno alla domanda che mi era stata fatta. So che c'erano altre domande, quindi il microfono. Una è qui davanti. Allora io ho tra le mani un altro testo di Arlt tradotto da un piccolissimo editore di Salerno che non ha neanche la distribuzione, quindi chiaramente uno si chiede come fa. Opera pubblicata nell'ambito del programma SU di supporto alle traduzioni del Ministero degli Affari Esteri e del Commercio Internazionale eccetera eccetera della Repubblica Argentina. Quindi quanto ha contato l'interesse per una letteratura fondamentale come quella sudamericana e quanto la possibilità di accedere a questi fondi nel momento in cui è nato il progetto SUR che già nel nome è un tributo a questa possibilità. e a prescindere da questo come si accede a questi fondi e poi già prima quando avevate pensato di aprire minimum fax alla letteratura statunitense nordamericana come avevate affrontato il doppio problema a costi di traduzione che chiaramente sono molto alti, ci parlava Rossari dagli 8 ai 25 euro a cartella e allo stesso tempo come puoi gestire la promozione in assenza dell'autore quando sappiamo che aiuta molto il giro delle presentazioni che fa l'autore. Quindi come all'inizio avete reperito questi fondi considerando appunto che non avevate anche una distribuzione forte, cioè come avevate affrontato questi problemi? Va bene, sono 14-15 domande in una quindi spero di ricordarmi tutti i passaggi. Dunque, partiamo dal legame tra minimum fax e SUR così raccontiamo proprio la genesi. Allora, quindi partendo da minimum fax. Minimum fax quando, insomma, vi ho raccontato prima che abbiamo iniziato con i libri di saggistica letteraria, sulla scrittura. Tra l'altro appunto anche lì il primo progetto che poi diventò subito un'ulteriore collana a sé stante che facemmo era, sempre su questa tematica qui, comprammo, parlo veramente degli inizi credo nel 1995, un'intera collana di libri intervista, di interviste con scrittori. C'è una rivista americana molto famosa, una rivista letteraria che si chiama Paris Review, una rivista di New York fondata da George Plimpton che era caratterizzata principalmente per il fatto che in ogni numero della rivista, in un trimestrale, c'era una lunga, dettagliata, approfondita intervista a un grande scrittore, per lo più americano, non solo americano, ma per lo più americano. L'editore Penguin aveva pubblicato alcuni volumi che erano diventati parecchi, mi sembra 7-8, in cui raccoglieva tutte queste tante interviste. Noi invece li comprammo con l'idea di fare dei piccolissimi volumetti che erano proprio tascabili, con una intervista ciascuno, quindi erano piccoli libri monografici con un'intera intervista a un autore, avevamo commissionato per ogni intervista un'introduzione a un autore italiano, e quindi questo era il nostro primo progetto straniero, e sapevamo appunto di dover non solo comprare i diritti di queste interviste, ma anche di dover sostenere i costi di traduzione. Diversamente appunto da quello che hai citato tu, su cui adesso torneremo, cioè questo programma di sostegno alle traduzioni che l'Argentina è uno dei paesi che realizza, devo dire, con risultati ottimali, ma che esiste anche in molti altri paesi. Diversamente da questo, dicevo, negli Stati Uniti, forse perché tutto il mondo subisce un po' l'egemonia anche culturale degli Stati Uniti, quindi chiunque traduce, in qualunque paese si traduce moltissimo la letteratura degli Stati Uniti, quindi evidentemente non hanno bisogno di quest'ulteriore incentivo per convincere gli editori stranieri a pubblicare autori americani, non esiste un progetto del genere. I primi paesi a farlo molto bene sono stati, non so, l'Irlanda, l'Olanda ha dei buoni finanziamenti, il Canada, tra l'altro sia nel caso di autori canadesi, in particolare i libri di Leonard Cohen che abbiamo pubblicato, sia nel caso di autori, autori orlandesi non li abbiamo mai fatti, ma un autore irlandese che avevamo pubblicato molti anni fa, è anche un'antologia che è uscita proprio pochi giorni fa, ha avuto un finanziamento, però appunto sapevamo di dover sostenere i costi di traduzione e che non c'erano per gli Stati Uniti delle forme di sovvenzione. Di fatto quella collana lì e poi tutto il resto che è venuto dopo di nostri libri sulla letteratura americana ci ha aiutato a caratterizzarci, anche a individuare noi per primi la nostra strada, la direzione che volevamo dare alla nostra casa editrice e quindi pur sapendo di avere quel costo in più, è un costo che un editore sa di dover sostenere così come sa di dover sostenere il costo dell'impaginazione, della correzione di bozze, della grafica, della stampa e della distribuzione. Sicuramente per un editore che comincia, soprattutto come noi ma come tanti altri, senza grandi risorse economiche da investire, è un costo in più significativo. D'altro canto quando appunto in questi primi anni di Minimum Facts dicevamo, certo però ogni libro ha questo costo in più della traduzione, se facessimo un autore italiano questo costo qui non l'avremmo, anche quello potrei dire che rientra nella lunga lista degli errori che abbiamo fatto perché ovviamente poi la ricerca di un autore esordiente, l'editing e i mesi che magari un editor e quindi la casa editrice trascorre lavorando fianco a fianco con l'autore nella fase di editing di fatto sono un ulteriore costo, magari non apparente, non così apparente perché non viene pagato un tot a pagina come la traduzione, ma è un costo in termini di ore di lavoro di un editor accanto all'autore e anche di ricerca, soprattutto per chi come noi ha fatto una ricerca su autori esordienti, è chiaramente molto più difficile scovare un autore esordiente che non un autore per quanto giovane che comunque una sua storia e eventualmente un suo successo in un altro paese o in un'altra epoca ce l'ha già avuto, quindi è più facile andare a pescare lì dove quel qualcosa, quel testo già esiste in forma di libro altrove. a maggior ragione se vogliamo anche ancora di più nella saggistica dove esiste diversamente dalla narrativa l'idea del libro commissionato dall'editore all'autore, quindi l'editore effettivamente vede nascere il testo magari di saggistica perché commissionato sul determinato argomento a un autore che l'editore ha individuato come il potenziale autore di quel libro, magari quel saggista ci mette due anni a fare la ricerca, a mettere insieme il libro, a progettarlo, a costruirlo ed è tutto tempo che l'editore aspetta, in cui lavora comunque, quindi anche quello era un falso risparmio quello che avevamo inizialmente immaginato che avremmo potuto avere non pubblicando autori in traduzione. Per arrivare poi a Sur e anche a questo programma di sovvenzione alle traduzioni che hai citato, in realtà la nascita di Sur era, per anticipare e evitare una domanda che qualcuno voleva fare ma si vergognava a fare così la rispondo direttamente, originariamente Sur, quando l'abbiamo iniziato a pensare, doveva essere una collana di Minimum Fax. Era un periodo in cui noi per primi, che comunque ci siamo nutriti, ripeto, sia da lettori che da editori di letteratura americana contemporanea, sentivamo, ci sembrava di sentire una sorta di fase di stanca nella letteratura americana. C'era stato un periodo molto fertile in cui avevamo scovato molti autori, in parte che negli Stati Uniti ruotavano intorno al progetto editoriale di Dave Eggers e di Max Winis, ma non necessariamente, però era quella generazione che poi era stata inizialmente raccolta nell'antologia di cui parlavamo ieri di sera, Barn Children of America, e che poi per molti anni sono stati una parte importante della nostra proposta letteraria. Mi riferisco a tutta quella generazione di autori come appunto Dave Eggers, Rick Moody, Jonathan Letta, Mayhem Homes, David Foster Wallace. Quando questi autori, che in parte noi, ma non solo noi, avevamo iniziato a scoprire e pubblicare erano diventati autori affermati, ci sembrava che non stesse nascendo, non stesse emergendo una nuova generazione di scrittori altrettanto forti, significativi, da una voce riconoscibile. E con la paura che questo potesse creare un vuoto anche lì dove noi andavamo a pescare, abbiamo iniziato a ragionare su altre parti del mondo dove poter andare a pescare storie, autori, libri. e anche in questo caso, devo dire, in maniera un po' avventurosa e non troppo programmata, l'idea è accaduta innanzitutto originariamente sull'Argentina, perché avevamo un po' il sospetto che negli anni successivi alla crisi, al default, parlo di crisi economica, che però come sempre diventa un momento di depressione ovviamente, ma anche di nuovo fermento sociale e culturale, effettivamente avevamo l'idea che in Argentina ci fosse qualcosa di buono. E quindi appunto, come vi dicevo, mi sono avventurato, sono andato a fare un paio di viaggi, ho partecipato a delle fiere, a una serie di incontri, ho partecipato alla prima volta che sono andato in Argentina, mi sembra, nel 2009, a una fellowship, cioè una sorta di grande seminario della durata di una settimana in cui la fiera del libro di Buenos Aires invita ogni anno una quindicina di editori stranieri con l'obiettivo proprio di far conoscere la letteratura argentina a editori di altre lingue. Avevo saputo di questa occasione, quindi ho partecipato e chiaramente appunto è stata l'occasione, quella un po' che vi raccontavo prima, cioè di venire a conoscenza di altri editori internazionali che avevano interesse nella letteratura argentina, di conoscere direttamente editori, autori argentini e di sentir nominare, come appunto raccontavo, in maniera ricorrente quasi sempre gli stessi nomi di autori, tanto tra quelli viventi, nuovi, tanto tra i classici, che effettivamente io poi tutte le sere in albergo andavo, mi collegavo su internet, andavo a vedere su IBS, vedevo che questi libri in Italia non c'erano, andavo a cercare sulle biblioteche, di alcuni vedevo che appunto erano stati pubblicati in passato ma adesso non si trovava più niente, quindi iniziamo a costruire questa collana. Per fortuna trovammo un sacco di roba e poi appunto ho iniziato a viaggiare anche in altri paesi, in Messico, appunto a studiare tutto il fenomeno del cosiddetto boom della letteratura latinoamericana, quello con cui esordirono ed ebbero subito un grandissimo successo, già a partire dagli anni, dalla fine degli anni 50, appunto i vari, diciamo dagli anni 50 e dagli anni 60, principalmente appunto poi il grandissimo successo di Cent'anni di solitudine da una parte, i primi libri di Cortázar, di Vargas Llosa, dall'altra, crearono questo fenomeno che ebbe risonanza in tutto il mondo della letteratura latinoamericana che appunto andò sotto il nome del boom letterario e vedi appunto imparando un po' la geografia e anche la storia della ricezione in Italia della letteratura latinoamericana di quegli anni di come appunto c'era stato anche in Italia questo fenomeno massivo di traduzione, poi come succede per quasi tutti i fenomeni molto evidenti e anche commercialmente significativi, con una sorta di caccia al nuovo autore latinoamericano, alla presentazione anche di epigoni o di cose simili, tutti sotto determinate etichette, chiaramente l'etichetta più commercialmente valida a un certo punto dopo il successo di Cent'anni di solitudine fu quella del realismo magico, tra l'altro ci sono anche dei saggi in rete molto interessanti sull'effetto di questo fenomeno letterario che diventa fenomeno editoriale e commerciale anche in Italia sulla traduzione di questi titoli, per cui ho scoperto tardivamente come col fatto che andava di moda il realismo magico in Italia vennero fatte delle traduzioni un po' costruite, anche lì dove c'era una scrittura meno barocca, dato che funzionava in Italia questo fenomeno del realismo magico veniva forzatamente imbarocchita una lingua per poter far rientrare un po' truffaldinamente un autore in quella categoria, in quella casella, sotto quell'etichetta di realismo magico. Dopo magari cerco di ritrovare questo saggio, ma comunque se cercate traduzione, letteratura latinoamericana in Italia trovate questo bel saggio disponibile online, che fa proprio degli esempi di come una frase magari molto piana, semplice, in spagnolo viene resa tutta floreale. Quindi insomma tutto questo fenomeno editoriale degli anni 60-70 con il suo successo anche in Italia, che appunto raggiunge il picco nell'82 con il premio Nobel a Garcia Marquez e poi da lì in poi però inizia ad affievolirsi, ha lasciato anche un vuoto, perché appunto c'era stato probabilmente un eccesso, una inflazione di pubblicazioni di tutta questa letteratura e quando a un certo punto non se ne è potuto più c'è stato un po' un fenomeno di risacca e nel asciugarsi questa marea di pubblicazioni oltre a portarsi via quello che forse era giustamente dimenticabile, è stato dimenticato anche qualcosa di molto importante, appunto alcuni fenomeni letterari passeggeri sono appunto forse giustamente stati dimenticati, ma a me sembrava impossibile iniziando a imparare un po' questi nomi, questa letteratura che un autore di uno spessore enorme come Cortázar avesse buona parte della sua produzione non più disponibile in italiano e addirittura tutti i, mi sembra, 16 libri di Juan Carlos Sonetti che erano tutti stati tradotti in italiano tranne uno, c'è un unico solo suo libro che non è stato tradotto, che noi pubblicheremo l'anno prossimo, un autore appunto considerato a livello non solo sudamericano ma mondiale un po' alla stregua di Faulkner per darvi un'idea, tutto tradotto da Feltrinelli, da Enaudi, da editori riuniti fino ai primi anni Ottanta, ma forse anche fine anni Ottanta, è sparito completamente dalle librerie, quindi tutto questo ci faceva pensare che si potesse costruire un progetto che inizialmente nasceva come collana, che iniziava ad acquisire anche una dimensione più grande, anche perché appunto per esempio di Onetti abbiamo firmato un contratto per tutte le sue opere, che appunto sono 16 libri, Cortázar abbiamo comprato in una sola cinque libri, Riccardo Piglia abbiamo comprato tre libri, quindi iniziava a diventare molto più di una singola collana. A questo si aggiunge, scusate appunto la digressione, ma oltre a queste domande, so che sto rispondendo a un'altra domanda che mi è stata fatta durante la pausa, appunto si aggiunge un aspetto più specifico, che forse è l'altra caratteristica di Sur, insieme diciamo al suo progetto editoriale, che è quello distributivo. Noi abbiamo deciso di distribuire i nostri libri in una maniera piuttosto avventurosa e rocambolesca senza avere un distributore, che è, se vogliamo, un po' un modo di sovvertire tutto quello che avevamo fatto fino a quel momento. Per anni, con Minimum Fax, avevamo l'ambizione, la ricerca di trovare finalmente un distributore, dopo che appunto eravamo per i primi tempi molto difficilmente reperibili, avevamo una distribuzione zoppicante, avevamo tanti piccoli distributori locali, una settimana si e una no, uno falliva, uno non ci pagava, uno scompariva, uno scappava con la cassa, fino a quando, anni dopo, nel 98, quindi quando già Minimum Fax esisteva da 4 anni, trovammo finalmente un distributore. Nel frattempo sono passati diversi anni e avevo iniziato ad avere un po' una idiosincrasia su come funzionava la distribuzione in Italia, sul fatto che ci fosse questa anomalia per cui i distributori di fatto erano di proprietà dei grandi gruppi editoriali che hanno anche le grandi catene di loro proprietà, quindi appunto Feltrinelli, messaggerie che è legato al gruppo Gems, che posseggono la catena Ubic e la libreria IBS, le librerie IBS, Mondadori che ha il suo gruppo territoriale, le sue librerie, il suo franchising, il suo sito online, la sua distribuzione, eccetera, eccetera, insomma non mi piaceva molto tutto questo meccanismo e quindi avevo immaginato di provare a sovvertire il meccanismo della distribuzione che peraltro in quel momento raggiungeva proprio una fase di apoteosi perché il distributore che allora distribuiva Minimufax, che si chiama PDE e che era stato tradizionalmente un distributore dedicato ai piccoli editori indipendenti, quindi aveva aiutato molti piccoli editori tra cui Minimufax a crescere creando un rapporto di fiducia reciproca o meglio reciproca tra editore e distributore e includendo in questo circolo virtuoso anche le librerie veniva in quel momento comprata da Feltrinelli, quindi negazione di tutto quello che aveva fatto perché veniva comprato da un grande editore che era proprietario di una grande catena e quindi di fatto io mi trovavo a essere distribuito da quello che per certi versi era come editore un concorrente e paradossalmente libraio e distributore dovrebbero diciamo avere una sorta di dialogo anche scontro invece lì erano tutti un unico soggetto, quindi si creava una sorta di rapporto incestuoso. questa cosa non mi piaceva, succedeva esattamente nel momento in cui doveva nascere Sur, quindi decidemmo di provare a distribuirci da soli. Ci siamo inventati delle regole, un metodo, un sistema che bene o male funziona, adesso insomma dopo tre anni anche se anche qui con aggiustamenti ed errori continui e piccole migliorie insomma più o meno adesso funziona. Per poter distribuirci da soli questo nuovo progetto che stavamo creando avevamo pensato proviamo a usare questo nuovo progetto editoriale per tentare questo nuovo progetto distributivo banalmente ci siamo resi conto che Minimum Fax aveva un contratto di esclusiva con il suo distributore quindi qualunque cosa fosse uscita con il marchio Minimum Fax non potevamo distribuirla che attravesse il nostro distributore quindi se volevamo tentare una terza via, una nuova via non potevamo farlo con il marchio Minimum Fax e quindi quella che avevamo iniziato a studiare come collana da una parte per quello che vi dicevo cioè per fortuna quantità di cose che trovavamo che facevano sì che diventavano una collana quasi casa editrice da una parte quindi diciamo del progetto più direttamente, più squisitamente editoriale, culturale dall'altra per questa volontà di volerci distribuire autonomamente e per l'ostacolo che avevamo dal nostro contratto non potevamo farlo come Minimum Fax quindi abbiamo deciso di fondare Sur come società a parte semplicemente proprio banalmente per eludere i vincoli del contratto che avevamo con il nostro distributore e quindi Sur è diventata una collana a sé tornando dopo questa lunga digressione al discorso delle traduzioni quando stavamo creando la collana che partiva principalmente dalla mia ricerca in Argentina ma che poi si era allargata appunto con autori colombiani, cubani, uruguayani e così via non sapevo, non sapevamo ancora che esistessero questi fondi anzi infatti il fondo è stato creato nel 2011 fortunatamente proprio nell'anno in cui esordivamo con Sur e peraltro con nostra somma fortuna si chiamava esattamente come la nostra casa editrice quindi sembrava un legame quasi obbligato si chiama appunto Programma Sur ed è un programma del governo argentino che diversamente da quello che succede in altri paesi tra cui l'Italia ha pensato giusto, doveroso e interessante promuovere la cultura come mezzo di scambio tra paesi, tra culture, tra nazioni, tra lingue e questo peraltro ha fatto sì che mentre nasceva Sur molte altre case editrici hanno iniziato a pensare di pubblicare letteratura argentina perché effettivamente c'è questa possibilità in più questo vantaggio in più che tramite questo finanziamento del governo argentino si può ottenere un contributo che in realtà è un contributo fisso quindi varia è una somma fissa l'equivalente di 3200 dollari quindi diciamo sono poco più di 2000 euro che però in alcuni casi riescono a coprire interamente o quasi interamente il costo di traduzione di un libro almeno se si tratta di libri piccoli come questo che infatti è stato finanziato la cui traduzione infatti è stata finanziata quindi certo è un grosso vantaggio non abbiamo scelto la letteratura argentina perché sapevamo che si poteva ottenere questo finanziamento anche perché appunto quando l'abbiamo scelta non andavamo ancora a conoscenza di questo finanziamento quindi abbiamo avuto la fortuna e tra l'altro appunto è un progetto che funziona molto bene che fa della selezione ovviamente perché non tutte le opere per le quali si manda la richiesta vengono finanziate però devo dire forse perché sono appunto autori significativi nel panorama letterario argentino però quasi tutti i libri argentini che noi abbiamo pubblicato hanno ottenuto quel finanziamento e quindi anche nel nostro libro come nel libro che dicevi tu c'è perché uno dei requisiti del finanziamento è che nel colofon del libro venga scritto opera pubblicata nell'ambito del programma surdi sostegno alla traduzione eccetera eccetera mi avevi chiesto qualche altro pezzo che mi sono perso? va bene c'erano altre domande so vuoi prendere il microfono per favore serve sempre per lo streaming ripongo la domanda come la organizzate poi questa distribuzione autonoma? dunque abbiamo iniziato con l'individuare alcune librerie con cui già negli anni precedenti con Minimum Fax avevamo lavorato bene librerie indipendenti e ho fatto prima proprio un test molto banale come vi dicevo già prima insomma mi capita spesso di andare in giro a incontrare librai in giro per l'Italia e quindi avevo iniziato in quasi tutti gli incontri che facevo a percepire una idea di grande insoddisfazione da parte dei librai piccoli grandi medi indipendenti di catena di provincia di città di periferia di centro insomma senza distinzione da parte di tutti c'era un'insoddisfazione su come i librai venivano trattati dai distributori che appunto essendo pochi essendo potenti essendo peraltro proprietari di catene di librerie in un per un motivo per l'altro rendevano insoddisfatti il libraio perché perché se sei un piccolo libraio sai che quello che ti distribuisce i libri è anche proprietario di una libreria di catena che è il nemico per antonomasia se sei un librario di catena magari uno dei distributori con cui litighi ci litighi perché è proprietario di un'altra catena quindi il tuo concorrente quindi insomma c'era un'insoddisfazione generale identica insoddisfazione generale perché io la vivevo in prima persona e perché conosco tanti editori con cui a ogni fiera del libro incontro seminario ci incontriamo e ci piangiamo l'uno sulla spada dell'altro su come siamo trattati male dai nostri distributori sapevo appunto esserci praticamente in soddisfazione da tutte le parti su come funzionava la distribuzione in più come dicevo appunto c'era stato era in atto questo passaggio per cui l'unico distributore che effettivamente sembrava fare gli interessi perché era nata con quel con quell'obiettivo lì cioè di lavorare molto bene con i piccoli editori e con le piccole librerie veniva in quel preciso momento comprato da Feltrinelli che si chiama appunto PDE il distributore e quindi in soddisfazione da ogni lato e quindi in tutte queste chiacchiere io dicevo ma se noi trovassimo il modo di provare a creare un rapporto diretto sarebbe difficile sarebbe possibile poi ci mettiamo a fare un po' di studi di conti perché appunto poi come dicevamo anche ieri l'editore si occupa di libri e di letteratura ma poi spesso deve essere anche bravo a usare Excel a fare due conti a saperne di leggi di fisco perché sono tutte cose con cui ha a che fare quotidianamente quindi provammo a studiare anche un piano economico di questa distribuzione immaginando che diciamo il distributore ha due fasi di attività adesso anche qui cerco di essere sintetico però la parte di promozione cioè il lavoro che fanno degli agenti di vendita che vanno nelle librerie e presentano le novità in uscita per gli editori che distribuisce e poi la parte di distribuzione fisica vera e propria a questo poi si aggiunge in una fase successiva un altro compito fondamentale del distributore che è quello di farsi pagare dai librai che non sempre è facile specie in momenti di crisi e quindi diciamo queste tre attività la promozione quindi diciamo la proposta la distribuzione fisica e poi tutta la parte amministrativa l'incasso sono attività decisamente importanti utili ma che hanno anche un costo e che come altri aspetti del libro abbiamo visto per esempio il diritto d'autore è una percentuale sul libro sul prezzo di copertina del libro venduto allo stesso modo è un costo che viene calcolato sulla percentuale del libro così come la quota che spetta al libraio il libraio generalmente prende una percentuale sul prezzo di copertina del libro venduto così come l'autore così come il distributore per queste varie fasi che vi ho detto cioè la promozione la distribuzione e l'incasso il distributore prende all'incirca una fetta sul prezzo di copertina anche qui chiaramente è variabile a seconda dei rapporti del potere contrattuale eccetera eccetera ma diciamo all'incirca del 20% del prezzo di copertina mentre il libraio mediamente prende il 30% anche qui insomma ci sono delle variazioni però diciamo i numeri standard e per semplificarli sono all'incirca questi il piccolo libraio anche qui appunto c'è potere contrattuale quindi il piccolo libraio magari prende il 30% la catena Feltrinelli avendo potere contrattuale dice tu editore se vuoi stare nelle mie librerie considera che ce n'ho 100% in tutta Italia quindi posso alzare la voce quanto voglio e tu se vuoi stare da me devi subire ti chiedo il 44% quindi c'è anche una sperequazione significa che su ogni libro venduto dalla libreria Feltrinelli il libraio ci guadagna all'incirca una volta e mezzo di quello che ci guadagna Zaum questa cosa era uno dei tanti motivi per cui i librai di tutta Italia erano un po' indispettiti e quindi proviamo a fare due conti per dire vediamo un po' se è vero che poi tutto quel lavoro che fa il distributore promuovere il libro distribuirlo incassare i soldi dovremo farlo noi quindi questa attività avrà un costo però sappiamo che risparmiamo una fetta del prezzo di copertina che non dobbiamo più dare al distributore insomma ci siamo fatti i nostri conti e la proposta che abbiamo fatto ai librai è stata guardate noi proviamo a fare questa cosa voi siete incazzati con i distributori noi siamo incazzati con i distributori proviamo a creare un sistema diverso e lo facciamo non per rendere più economico il nostro lavoro ma per provare a far guadagnare il libraio indipendente più o meno quanto guadagna Feltrinelli cioè quello che risparmiamo del distributore invece che intascarcelo noi proviamo a girarlo al libraio chiaramente libraio entusiasti con delle difficoltà ovviamente perché un conto per un libraio che come l'editore spera di passare del tempo a chiacchierare con i suoi clienti di libri e di letteratura ma in realtà pure lui si deve fare i suoi conti deve sapere usare Excel deve andare da commercialista e quant'altro anche per il libraio certo avere a che fare con un distributore che ti distribuisce a 100 editori è più facile che avere a che fare con noi solo per quei pochi libri che pubblichiamo ogni anno significa comunque fare un rendiconto fare una fattura ricevere una fattura fare un pagamento fare un bonifico occuparsi delle rese eccetera eccetera per un piccolissimo editore mentre la stessa quantità di lavoro la puoi fare con messaggeria che distribuisce a 100 editori e la vita è più facile quindi sicuramente determina da parte nostra e da parte del libraio un po' di sforzo in più questo sforzo è ripagato dal fatto al di là della questione numerica economica che dice che fa sì che il libraio possa guadagnare una fetta del prezzo di copertina più alta rispetto a quella che guadagnano vendendo un libro mondatori e quindi idealmente che il libraio sia più portato a voler vendere un libro sur che non un libro di un'altra casa editrice determina un po' di lavoro in più qual è l'altro discrimine fondamentale di tutto questo è che quando il distributore porta il libro in libreria emette anche una fattura e il libraio paga il libro non subito generalmente anche lì a seconda dei rapporti economici commerciali dopo 60 giorni dopo 90 giorni però quei libri li paga ovviamente ha il diritto di resa significa che quando è passato un po' di tempo e il libro non è venduto il libraio può renderli al distributore e dopo altri 60-90 giorni riceverà indietro quei soldi di quel libro che aveva già pagato se invece l'ha venduto l'ha venduto e ci ha avuto il suo guadagno nel nostro caso invece l'altro elemento fondamentale è che diamo i libri a tutti questi librai con enorme rischio ovviamente da parte nostra sulla capacità di riuscire poi a vedere mai una lira da questi librai che però per lo più si comportano bene li diamo come si suol dire in conto deposito cioè io ti do i miei libri tu te li tieni e me li paghi solo quando l'hai venduto fino a che non l'hai venduto non mi devi pagare diversamente dal distributore che tu lo venda o meno quel libro intanto me lo paghi poi lo puoi rendere e io ti ridarò i soldi ma intanto me lo devi pagare quindi l'altro vantaggio per il libraio oltre a guadagnare un po' di più sul prezzo di copertina è che non rischia uno dei problemi delle librerie adesso chiunque in questa stanza lo sapevate già da prima ma diciamo se adesso venisse per la prima volta a sapere ah ma come il libraio se non vende il libro può restituirlo gli danno i soldi quindi perché le librerie chiudono dov'è che falliscono le librerie se quando un libro non lo vendi i soldi li puoi avere indietro principalmente falliscono sulla capacità finanziaria cioè c'è un'esposizione iniziale poi magari i libri li puoi rendere al di là del fatto che ovviamente quando li rendi quasi sempre intanto il pacchetto da spedire lo devi spedire tu è a un costo a volte c'è anche una penale il distributore impone che magari se rendi il libro qui ci sono dei librai quindi mi possono confermare credo che ci sia un 2% a volte anche di più di penale quindi comunque si assottiglia sempre di più il margine appunto venitemi incontro se dico delle sciocchezze però mi sembra che su quel famoso diciamo 30% di sconto si chiama così lo sconto librario cioè la fetta del prezzo di copertina che il librario guadagna già esiste una prima voce che si chiama porto in ballo cioè nonostante il distributore si chiama distributore e la parte del prezzo di copertina che guadagna ce l'ha proprio perché distribuisce il libro comunque di più ti chiede un 2% perché ti ha portato il libro anche se si chiama distributore quindi già si fa pagare per il suo lavoro ma comunque perché perché il libraio volendo per non pagare quel 2% può andare lui nel magazzino del distributore e prenderselo però dici boh significa che non c'è nessuno in libreria che devo metterci la benzina che perdo mezza giornata vabbè paghiamo su 2% quindi insomma il 30% già diventa 28% poi se lo devi restituire c'è un'altra penale del 2% in più devi spedire il pacchetto così poi in tutto questo punto intanto il libro lo paghi all'inizio quindi per riempire una libreria di libri intanto tutti quei libri li devi pagare poi c'è la possibilità che quando li rendi ti restituiscono i soldi però quindi appunto questo era per spiegare perché le librerie chiudono se in realtà possono anche rendere i libri e avere indietro i soldi quindi insomma aiutiamo il libraio dal punto di vista finanziario perché il libro non lo pagano all'editore se non quando l'hanno già venduto quindi loro hanno prima preso i soldi dal lettore e poi li danno a noi quindi invertiamo anche il flusso finanziario che è una delle cose che stridola di più i librai per tutti questi motivi diciamo anche se appunto con difficoltà adesso siamo distribuiti in 150 librerie che non significa essere ovunque oggi se esce una recensione di un libro di risurdo su Corriere della Sera il lettore che va alla libreria sotto casa non è detto che lo trovi perché appunto non siamo distribuiti in tutta Italia però dove siamo distribuiti ci siamo qual è l'altro diciamo principio che regola questo rapporto di di comunanza di intenti rispetto al libro sur con i librai che proprio perché i librai non hanno pagato il libro ma lo pagheranno soltanto quando lo vendono non hanno interesse a renderlo Big Ben che le sono ah no va bene pensavo fosse un segnale che dovevo smetterla la smetto comunque fra poco vi dicevo quando il libraio non vende il libro può renderlo a volte il libraio è costretto a rendere un libro anche semplicemente perché gli mancano i soldi per pagare l'affitto uno stipendio le bollette e quindi dice come faccio a far tornare i conti boh ho sto libro di falcinelli che vende tantissimo però è meglio che ne restituisca una copia così il distributore mi restituisce 10 euro e ci posso pagare la bolletta nel caso di sur questa cosa non ha senso perché dato che il libraio non l'ha pagato non ha interesse a rendere i libri per riavere indietro dei soldi quindi l'idea è che per chi frequenta le librerie per chi è interessato all'editoria come tutti noi in questa stanza o per chi lavora in una libreria o in una casa editrice insomma per tutte le persone che sono in questa stanza uno degli effetti nefasti che noi vediamo è che non tutte le librerie a parte le librerie chiaramente di progetto con un indirizzo particolare che ci tengono magari non a esporre solo le novità ma anche i libri di catalogo i libri tendono a sparire dalle librerie sempre più velocemente ormai quasi tutti gli editori almeno i grandi editori tendono a ragionare sul successo di un libro un po' come si ragiona nel cinema andando a vedere gli incassi del primo weekend al botteghino se e anzi questo ve lo posso dire perché avendo girato le librerie di tutta Italia tra le altre cose ho conosciuto dei librai di grandi catene che ci dicono che settimanalmente ricevono direttamente sul loro computer sul programma che hanno che utilizzano in libreria la lista dei cento libri più venduti della settimana quei cento libri vengono riforniti cioè il libraio ordina altre copie in quella determinata catena gli altri possono andare lentamente a morire quindi non vengono riordinati se rimangono ancora un'altra settimana sul bancone vengono restituiti indietro all'editore questo significa poche settimane di vita di speranza di vita di un libro in libreria e questa è una cosa di cui gli editori si lamentano e soffrono le conseguenze spesso i librai invece sono costretti anche non con questo eccesso tremendo che vi ho descritto ma reale che succede in una catena di cui non faccio il nome ma cui vi descrivo il simbolo è una F un po' storta purtroppo anche piccole librerie che magari sono librerie di progetto per questioni di spazio sono tenute a un certo punto a fare spazio per le nuove novità nuovi libri appena usciti che arrivano perché un altro problema è che noi editori pubblichiamo troppo e quindi vengono pubblicati circa 60.000 libri all'anno che significa qualcosa come 150 160 nuovi libri ogni giorno ora non è detto che una libreria voglia accogliere o debba anche per specializzazioni per interessi tutti questi 160 libri al giorno ma diciamo che ne voglia accogliere anche solo 10 se vuole prendere quei 10 libri o ne ha venduti altri 10 e quindi ha lo spazio oppure non c'è lo spazio per tenerli quindi magari dovrà rendere qualche cosa oppure non potrà tenere le novità delle due l'una quindi insomma questo meccanismo che abbiamo inventato per Sur chiaramente come dire fa ricadere un po' di lavoro in più su noi editori un po' di lavoro in più sul libraio però idealmente per questo dicevo non solo economicamente non penso che infatti nessun libro di Sur è propriamente un best seller però è un discorso per il quale al di là ripeto dei risultati economici del dato di vendita però politicamente tutti i librai con cui abbiamo parlato si sono trovati d'accordo perché appunto è un tentativo anche se piccolo minuscolo magari non efficiente perché non l'ingranaggio non funziona a perfezione però è un discorso che se fosse replicato da tanti altri editori se i librai potessero accogliere però diventerebbe anche lì troppo difficile per loro tanti altri editori distribuiti allo stesso modo forse anche i librai avrebbero vita più facile però appunto al di là dei risultati è il principio diciamo proprio di politica del libro oltre che politica culturale o politica to cure che abbiamo messo in atto che infatti ha avuto un buon riscontro di entusiasmo da parte dei librai io volevo chiederti invece di una cosa molto interessante che caratterizza Sur cioè lo sponsor quella forma di donazione che si fa diciamo a sostegno del progetto e volevo chiederti per esempio pensando di nuovo agli adi dionetti lì si citava fra gli altri Sandro Veronesi altre persone la mia domanda era a parte insomma che ci illustri le forme di sponsor può questa forma di sponsorizzazione in qualche modo indirizzare le vostre scelte nel senso può qualcuno che sia ovviamente un conoscitore suggerirvi dei titoli da pubblicare chiedervi di portare qualcuno impegnandosi a sostenere il progetto allora non ci siamo ancora arrivati però mi ha dato una buona idea no allora descrivo prima di cosa si tratta di fatto è qualcosa che assomiglia un po' al crowdfunding in maniera un po' diversa in maniera un po' più individuale nel senso che non dobbiamo non ci siamo dati un obiettivo mentre per le produzioni fatte con il crowdfunding ci si deve porre un obiettivo di almeno x sostenitori e sono progetti che almeno nelle intenzioni vedranno la luce solo al raggiungimento di un certo numero di sostenitori che in qualche modo preacquistano quello che sia il libro diventano soci di una produzione cinematografica o quello che sia nel nostro caso lo facciamo con libri che noi abbiamo già deciso che pubblicheremmo comunque ed è anche un'attività che essendo pochi in casa editrice non siamo riusciti a fare sistematicamente su tutti i libri infatti di alcuni non abbiamo avuto il tempo o la capacità di appunto di promuoverla e quindi con alcuni non abbiamo avuto sostegno però di fatto noi annunciamo quando riusciamo a farlo annunciamo con un certo anticipo i libri che pubblicheremo dando la possibilità ad alcuni anche semplici lettori al di là del fatto che appunto tra questi semplici lettori ci sono stati anche scrittori appunto Sandro Veronesi Francesco Pacifico vari scrittori insomma hanno deciso di sostenere un libro fondamentalmente gli suggeriamo gli proponiamo di comprare un quantitativo piccolo medio grande di copie con una forma di preacquisto quindi le pagano prima hanno uno sconto hanno qualche regalo così e il loro sostegno viene pubblicamente diciamo reso pubblico con ringraziamenti a Salamelecchi del caso lo pubblichiamo sul libro stesso quindi nell'ultima pagina del libro ci sono i nomi dei sostenitori vediamo per esempio se questo libro qui ha dei sostenitori eccolo qui Carlo Annese che è un giornalista e scrittore Lotto 49 che è una cooperativa un'agenzia letteraria romana Paolo Verri che è un che avevo conosciuto mille anni fa ex direttore del Salone del Libro di Torino che adesso invece è direttore del comitato Matera 2019 ma all'epoca appassionato di letteratura argentina mi ha mi ha dato il suo sostegno ha dato il suo sostegno al Sur appunto in altri casi ci sono stati anche scrittori eccetera quindi di fatto è come dire un modo anche per creare una rete appunto Sandro Veronesi comprò mi sembra proprio degli addi 25 copie per regalarle a tutte le persone che lavoravano da fandango perché diceva che era un libro bellissimo che avrebbero dovuto pubblicare loro insomma siamo stati quasi cazziati praticamente e adesso insomma non mi ricordo gli altri cosa ne hanno fatto ci hanno fatti i regali di Natale per esempio l'ambasciata argentina in Italia è diventata più volte sponsor di alcuni nostri libri di autori argentini ne hanno comprate 30 copie e l'ambasciatore bontà loro li usava per fare i regali di Natale un'altra volta abbiamo fatto una cosa bellissima abbiamo fatto un baratto quindi l'ambasciata argentina è diventata sponsor acquistando 30 copie invece di pagarle in cambio abbiamo fatto un corso di lingua spagnola che ha fatto Martina Testa perché volevo costringerla a imparare lo spagnolo per darmi una mano su Sur e non siamo appunto mai arrivati all'idea di che sarebbe quasi una forma di libro a pagamento di qualcuno che dice se pubblichi sto libro te ne compro 100 copie non siamo mai arrivati così però il caso in cui ci siamo andati più vicini è proprio l'ultimo libro che abbiamo pubblicato si chiama L'esercito di cenere la pubblicazione del quale anche in questo caso uno scrittore argentino si chiama Pablo Feynman mi è stato suggerito da un libraio un libraio di Arezzo che è stato uno dei primi a reagire positivamente a questo progetto di distribuzione di Sur e da subito mi disse guarda io ho un libro argentino che era stato pubblicato nel 94 93 94 da Giunti è questo qui che si chiama L'esercito di cenere è proprio il mio libro feticcio pensa che io in in dieci anni ne ho vendute 500 copie nella mia libreria praticamente un aretino su tre credo che abbia a casa sua quel libro e e quindi mi ha detto lo devi leggere lo devi leggere lo devi pubblicare anche perché se lo pubblichi io te ne vendo sicuramente 200 copie quindi diciamo era abbastanza allettante come cosa comunque l'ho letto effettivamente il libro mi è piaciuto molto l'abbiamo pubblicato e il libraio di stato di parola ne ha ordinate 150 copie mi ha scritto una settimana dopo l'uscita del libro che ne aveva già vendute 28 quindi insomma ha venduto 28 copie in una settimana a livelli di Bruno Vespa direi e in una sola libreria di Arezzo insomma quindi se tutti facessero la stessa cosa questo libro sarebbe un bestseller adesso vediamo a Bari mi sfido vediamo a Bari quante copie verranno vendute altre domande microfono in realtà ti volevo chiedere la domanda che ti avevo fatto prima era a livello di promozione poi del libro del testo se voi prendete libri che sono stati pubblicati vent'anni fa e li ripubblicate di autori morti poi sulla stampa in int cioè come fate a riuscire a farne parlare poi effettivamente del libro dunque indubbiamente essendo reduce appena adesso da un paio di giorni di promozione con uno scrittore argentino uno dei nostri pochi autori viventi che si chiama Alan Pauls devo dire che è molto più facile molto più facile presentare un libro di un autore vivente soprattutto se come Alan Pauls è un figo da paura che tutte le donnine sono lì in prima fila sbavanti stai già cercando la foto guarda come sei guarda come sei mamma mia non ti fidi quindi appunto chiaramente è stato possibile portarlo abbiamo fatto una presentazione a Firenze una roba bella lui aveva due giorni quindi è stata una cosa piuttosto veloce però era in Europa era ad Atene e quindi sempre che era andato a presentare anche il suo libro lì e quindi è venuto abbiamo fatto due presentazioni è stata un'occasione oltre che per incontrare il pubblico ha fatto un sacco di interviste l'abbiamo tartassato in due giorni ha fatto tipo 7-8 interviste ha fatto interviste con Repubblica con il Corriere con il Manifesto è andato a Radio 3 a fare Night quindi insomma chiaramente ha avuto la possibilità di di essere queste interviste lui è appena andato via queste interviste devono ancora uscire usciranno nei prossimi giorni ma anche il solo fatto di andare a Radio 3 a fare Night magari ti ascoltano 200.000 persone tutte insieme usciranno queste interviste nei prossimi giorni e e quindi chiaramente è un modo molto più semplice così come riuscire a far invitare un autore a un festival letterario o appunto avere l'opportunità di farlo stare qualche giorno in Italia che cosa in che modo possiamo sopperire nel caso in cui l'autore non ci sia beh innanzitutto dal punto di vista della pura della mera ricezione dei giornali a volte proprio il fatto che un libro che almeno qualcuno non è detto tutti ma insomma noi per primi soggettivamente poi qualcun altro se incontra il nostro stesso gusto considera importante che era sparito dalla circolazione ma per certi versi viene ritenuto un classico o comunque un libro degno di essere ripubblicato spesso anche questo è già una notizia in sé quest'anno ovviamente abbiamo concentrato come vi dicevo la pubblicazione di due libri di Cortazar più un libro su Cortazar nello stesso anno perché c'era il centenario della nascita di Cortazar e noi stessi quindi abbiamo organizzato adesso siamo nel pieno di un'organizzazione sempre insieme all'ambasciata argentina di una rassegna di una quindicina di incontri tutti dedicati a Cortazar in vari modi sproiezioni di film tratti dai suoi libri letture concerti ispirati in qualche modo alla sua opera abbiamo fatto una conferenza con tutti i traduttori italiani di Cortazar insomma era un modo per promuoverlo quindi lui è morto però ci sono varie altre forme di possibile promozione in altri casi abbiamo sempre per questo rapporto speciale che abbiamo voluto creare con le librerie organizzato degli eventi non potevamo fare una lettura dell'autore non potevamo intervistarlo e allora a questi vari librai disseminati in tutta Italia con cui abbiamo un rapporto di collaborazione e di fiducia abbiamo in qualche occasione chiesto di aiutarci nell'organizzare degli eventi e abbiamo fatto delle cose che abbiamo chiamato letture diffuse quindi appunto scegliendo un periodo di tempo relativamente ristretto generalmente una settimana invitando i librai a organizzare ciascuno qualcosa nella sua libreria se è possibile dando una mano anche noi magari portando in qualche libreria un traduttore un critico un esperto ma a volte anche semplicemente dei clienti della libreria che hanno conosciuto l'autore diciamo hanno conosciuto il libro insomma l'hanno apprezzato e il fatto di creare un evento condiviso contemporaneamente che noi facciamo rimbalzare sui social network dando a nostra volta quel minimo di visibilità in più alla libreria perché facciamo dei comunicati con la lista delle librerie che partecipano facciamo noi una locandina che mandiamo a tutte le librerie l'ultima occasione è stata la presentazione di un libro di un altro scrittore morto che si chiama Roberto Art argentino usciva contemporaneamente un libro nostro e un libro di un altro editore del vecchio piuttosto che farci concorrenza la guerra tra poveri abbiamo deciso di unire le forze e abbiamo presentato entrambi i libri insieme siamo riusciti a coinvolgere 40 librerie in tutta Italia che sono un bel numero che nell'arco di una settimana ognuno nella sua città ha organizzato un piccolo evento noi abbiamo dato una mano perché abbiamo scoperto che Pietro del Vecchio è una specie di malato di enigmistica quindi ha fatto un cruciverba con domande a tema su Roberto Art le risposte si potevano desumere da dei brani che noi avevamo suggerito ai librai di leggere li leggevano i librai stessi o qualcuno che invitavano per l'occasione quindi la confezione del piccolo evento era in una libreria qualcuno legge dei brani qualcuno dal libro di Sur qualcuno dal libro del Vecchio subito dopo viene distribuito questo cruciverba tutti partecipano e chi indovina e chi consegna per primo vince una copia del libro di Sur una copia del libro di Art quindi sicuramente abbiamo regalato un sacco di libri poi spero che qualcuno l'abbiamo anche venduto e quindi sono chiaramente ci si inventa delle cose un'altra volta per esempio proprio per il cantiere di Onetti facemmo un altro evento simile con tante librerie in quell'occasione mi pare che furono una sessantina le librerie che parteciparono e quindi dopo aver raccolto tutte le adesioni dividemmo il libro erano 180 pagine mi sembra erano 60 librerie abbiamo dato 3 pagine a ogni libreria e abbiamo chiesto a ogni libraio di invitare un lettore un cliente della libreria a leggere noi avremmo regalato una copia del libro a questo cliente quindi intanto ogni singolo libraio partecipa in qualche modo non ospita solo l'evento ma partecipa perché individua il lettore affezionato gli regala il libro e quindi ogni libreria di queste 60 d'Italia gli sono state assegnate queste 3 pagine e abbiamo chiesto a ogni libraio di fare un filmino con l'iPhone con quello che aveva a disposizione con l'iPad e di mandarcelo e quindi poi abbiamo fatto un canale YouTube dove se vuoi senza comprarti il libro perché poi alla fine tutto questo serve per regalare ma non per vendere però a parte gli scherzi insomma è comunque un modo per promuovere in maniera insomma il meno asettica possibile la pubblicazione di un libro soprattutto quando non hai l'autore a disposizione e quindi abbiamo messo tutti questi filmini in realtà non tutti perché non tutti i librai sono stati tecnologicamente all'altezza del compito difficilissimo che gli avevamo assegnato però insomma quasi tutto il libro è stato letto insomma tutto il libro è stato letto quasi tutto è stato filmato e quindi poi abbiamo messo insieme questa lettura che nel nel suo svolgimento avveniva contemporaneamente una sessantina di librerie sparse per l'Italia e poi le abbiamo messe tutte insieme su YouTube quindi ci si inventa quello che si può qualche volta abbiamo fatto presentazioni magari in cui non essendoci l'autore è venuto il traduttore insomma si fa quel che si può Alan Pauls ti è piaciuto? no? no eppure il pubblico era soprattutto femminile beh per Cortázar abbiamo fatto la settimana scorsa una lettura con Fabrizio Gifuni che pure via la molla vabbè se tu hai questi gusti difficili non è colpa mia e va bene mi sa che anche se ci fossero state altre domande vince la fame perché ci stanno cacciando no perché c'è un'altra domanda non so se facciamo il tempo no vabbè vabbè ah e come facciamo? voi tornate anche nel pomeriggio? sì volevo sapere la sua opinione sul fatto che le case editrici tendono sempre di più a esternalizzare il lavoro a parcellizzarlo a rivolgersi a servizi ad agenzie editoriali e questo ovviamente cozza col concetto di identità di una casa editrice per cui perché poi ovviamente l'identità si deve incarnare nelle figure professionali nelle risorse umane che lavorano quindi mi interessava sapere questo no la domanda ha molto senso perché appunto esattamente come dici tu la creazione dell'identità della casa editrice nasce ovviamente prima di tutto dentro e io per anni sempre sono stato un grande fautore delle riunioni di redazione anche se quasi tutti la consideravano una perdita di tempo una cosa della quale mi incazzo sempre di più è quando finisce la riunione di redazione e qualcuno dice vabbè adesso andiamo a lavorare perché fino adesso che abbiamo fatto scusa a me sembra che il momento in cui si sintetizza al massimo appunto l'identità o la creazione dell'identità di un'identitore sia proprio la riunione in cui tutte le persone della casa editrice partecipano per fare proposte per scegliere libri per dare un parere e a Sur siamo molti meno quindi le riunioni di redazione sono piuttosto ristrette a Minimum Fax alle riunioni di redazione abbiamo sempre cercato di far partecipare tutti non solo gli editor che scelgono i libri ma anche i redattori l'ufficio stampa il direttore commerciale perché bene o male poi tutti saranno interessati alla alla promozione alla diffusione di quel libro e quindi ovviamente se piuttosto che riceverne notizia solo a cose fatte al libro pubblicato partecipano addirittura alla decisione se pubblicare un libro o meno è sicuramente importante d'altro canto soprattutto parlando di case editrici piccole non tutte le case editrici hanno la possibilità di pagare tanti stipendi e quindi da un certo punto di vista se per il discorso dell'identità è sicuramente utile che ci sia un gruppo di persone a lavorare per crearla d'altro canto dal punto di vista più diciamo qui mi vesto più da sindacalista e da persone interessate al mercato del lavoro nel mondo dell'editoria mi rendo conto che è preferibile che l'editore si dal punto di vista appunto anche mettendomi nei panni di chi vuole lavorare nell'editoria è preferibile nel caso in cui l'editore non ha soldi per pagare degli stipendi che l'editore si rivolga a una struttura esterna dove comunque ci sono delle persone che vogliono fare i redattori i editor i correttori di bozze i grafici eccetera eccetera e vengono pagati dalla agenzia per la quale lavorano o come freelance perché l'editore paga questo servizio piuttosto che lavorare in una casa editrice che finisce con non poterti pagare lo stipendio e quindi finisce con lo sfruttarti anche perché e questo succede non solo nell'editoria ma un po' in tutto il mercato culturale dato che come tutti in questa stanza ben sappiamo tendiamo a considerare solo eventuale aleatorio il pagamento perché tanto ci piace farlo e quindi lo facciamo lo stesso ci sono appunto imprenditori che tendono a sfruttare questo desiderio a questa volontà non pagando le persone che lavorano e quindi dicevo appunto dal punto di vista dell'identità di una casa editrice del gruppo di lavoro che seleziona dei libri e che finisce col creare il progetto che contribuisce a creare o ad alimentare il progetto editoriale è sicuramente preferibile il gruppo di persone qualora l'editore non ce la faccia e comunque sempre dal punto di vista di chi cerca lavoro nell'editoria è un'opportunità in più perché comunque il fatto che le case editrici tendano a servirsi di agenzie esterne fa sì che chi vuole fare uno dei lavori editoriali redazionali possa anziché rivolgersi solo a delle case editrici anche a queste agenzie o anche creare delle piccole piccolissime agenzie esistono agenzie fatte anche da una persona sola che più o meno fa un po' tutti i lavori redazionali e quindi può offrirli a una casa editrice non credo di averti dato una risposta definitiva insomma è abbastanza cerchio bottista però ripeto editori piccoli spesso non ce la fanno e quindi a mio avviso è preferibile percorrere quella strada piuttosto che rischiare di non venire pagati va bene buon appetito grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.